Si è conclusa con la condanna ad una pena detentiva e alla confisca di beni e denaro la vicenda che ha visto protagonista un uomo, titolare di una ditta nel settore della fabbricazione di porte e finestre in legno, rintracciato dalla compagnia della Guardia di Finanza di Fano. L'accusa nei confronti del soggetto è quella di essersi reso protagonista di una consistente evasione fiscale, che proprio la Guardia di Finanza ha scoperto nel corso di una verifica fiscale. Le fiamme gialle su disposizione del Tribunale di Pesaro hanno quindi ritirato il denaro presente sui conti correnti dell'imprenditore e beni in suo possesso per un valore di 150.000 euro. L'accusa nei confronti dell'uomo è quella di aver distrutto ed occultato diverse scritture contabili, per impedire la corretta rilevazione dei redditi percepiti. I guadagni reali ottenuti dal titolare della ditta e nascosti al fisco sono stati minuziosamente ricostruiti grazie al lavoro della Guardia di Finanza. Oltre alle sanzioni amministrative derivate dall'accaduto, l'imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro, che ha dato poi il via al procedimento penale per i reati tributari intercorsi.